partendo attenzione si parte fermi tutti in pole c'è Ryujin ma qui era no rules vero? eh apparentemente si io l'ho visto da che parte era la curva attenzione dove cazzo sto? no sto nel pubblico davanti al pubblico oh minchia ma sta macchina che ho preso in prestito è una bomba se vedi io ho l'auto metà blu e metà arancio se vedi di che colore è giusto per distinguerci è tutta nera con scritto 0 sul culo oppe l'audio questo è morto malissimo sono in zona mister palmino attenzione dietro i miei palmino bella palmiro qua si vado in freno a mano no vabbè ragazzi questa macchina è spettacolare era viola quelle viola sono quelle in prestito vero? curvona attenzione palmino bravo palmino che cerca di evitare i compagni di squadra palmino uno di noi ma cosa sono? ah sono terzo non è male addirittura attenzione qua dobbiamo lottare invece per la sopravvivenza io sono andato dritto sul culo ad insinuarmi negli spazi vuoti sennò qui dietro però si stanno battagliando attenzione così ci appoggiamo in amicizia grazie Fabrizio grazie per i 21 mesi non è molto fluido beh signore non lo so abbiamo ho lasciato le impostazioni dell'ultima volta quindi è fluidissimo sicuramente no però occhio palmino dai che andiamo spero sia visibile ma quello è arrivato così cattivissimo ci ha passato io non mi sono accorto di essere passato la terza a quarto perché ho visto l'amico stecca o stacca grazie mille per avere steso l'abbonamento uh botta dalla distanza e se ne va niente qua siamo morti male qua siamo morti male non c'è rimasto niente della macchina uh sei sempre dietro dietro dietro? eh adesso si uh larghissimo stavamo recuperando ma ho dato una staffilata dalla distanza e non c'è rimasto niente dell'auto eh io sono in lotta per la quinta adesso sono distratto sul più bello guardalo dove va eh va che muore è morto è morto scusi mi appoggio dove va? dove va a far benzina quel dai 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 allora nonostante l'auto e anche il pilota sia ammaccato perché si vede la testa un po' schiacciata però proveremo a recuperare qui davanti io sto soffrendo un po' di usura gomme all'inizio andava meglio io non ce l'ho neanche le gomme qua ormai usura cerchione ci è rimasto ben poco di un'auto il cartellone sul tetto però quello sta sano quello ce l'abbiamo spazio pubblicitario in vendita ancora buono abbiamo lasciato lì c'è ancora però la classe c è un po' così perché non c'è la sportiveggianza della station wagon con la bara e quello è il problema ma dobbiamo vedere di votare un loop qualcosa di arrogante come l'altra sera sì quello ha vinto tutto ma non passavano quello ha vinto tutto anche perché poi il bello era pure che ognuno prendeva l'auto che voleva quindi esatto quindi poi era il cazzo sui se ci passavano esatto da loro tipo attenzione questi sono schiantati malissimo quindi forse riusciano a recuperare qualcosa guarda come zigzagga quest'uomo attenzione lo prendiamo per dire il gigino quanto zippa no 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 cazzata attenzione mi salvo dammi se dammi se vago l'aria comunque sai che non so se era senza regole perché attenzione eh infatti no perché vedo gli altri che guidano cioè bene nel senso no ma infatti sì alla fine esatto mi ho affiancati parecchi ma nessuno mi ha quasi buttato fuori quasi no io ho fatto tutto da solo in effetti da terzo a nono perché sono stronzo vabbè al massimo ci bannano sti cazzi non potevo non rinnovare sei troppo forte marenna grazie mille grazie mille è la serie total war ragazzi è molto impegnativa è un genere che mi calma non li ho mai giocati perché sono veramente tanto tanto impegnativi sono da studiare ciao nu sono un seguace di Ale ma non posso non rinnovare l'abbonamento che mi avevano regalato grazie mille Yukon eccezionale grande Yukon grande Yukon ti ricorderò come il seguace di Ale e attenzione anche Davide Vallarino grazie mille anche a te per l'abbonamento ragazzi ma se era tardi vi abbonate così tanto bene bene gli abbonamenti tardivi e che sono quelli che a una certa ora Gigino Gigino vi può vi può tracciare col VPN ecco le quali regole no ovviamente razzismo no insulti no Raiden non gli piacciono i player inside solo auto armate allora ci sta grazie GR anche a te attenzione gli abbonamenti fioccano allora io cambierei quasi auto signore questa va bene però come siamo sullo sterrato qua ci sta la killer B che si ribalta su due ruote ma Ale io voglio offrire un po' di spettacolo prendo il divano non mi importa se mi cacciano te lo dico vabbè se si può prendere di io devo livellare un po' la killer B sì sì è C148 però hanno detto solo auto armate il divano non è molto armato va bene anche la killer B la killer B questa cioè se c'ha le ruote è quella che che va su due ruote quindi ah quel bellissima forza 1,7 controlla il divano vedete che è di più secondo me il divano è più resistente forza aspetta come faccio a vedere quando la vai a potenziare forza 1 ah ok ok onesto fa cagare ok io la potenzio un pochino di accelerazione questa che grazie mister non frena grazie a tasca e grazie a crespologo ragazzi ma tutti sti abbonamenti eh sì crespologo mister non frena yes yes sono sportiveggianti sono sportiveggianti ok ok anche voi siete no Sam non hanno donato 500 euro è finta quella donazione lì è un testo colorato tranquillo grazie anche a Max Destroyer anche Max yes i grandi sportiveggianti exenzionale Max mi sa che il massimo è 164 eh sì per classe C va bene così eh ma aspetta comunque il divano va fortissimo solo che da quel che mi ricordo impenna tipo è un po' pericoloso sì eh io mi sa che non so se l'ho mai provato il divano sai che ho un po' di timore di ribaltarmi ribaltamento no è terribile infatti ah ma poi è tipo come le moto cioè se tipo tamponi uno il pilota se ne va infatti mi ritirerò credo però però attenzione quante musichette sono quelli vi avevo letti prima Max Destroyer grazie la blindo un pochino questa ragazzi tanto poi scende i punti prestazione rimetto qualcosa a livello di motore sì sì Giacomo lo portiamo F1 2020 ma effettivamente vi avevo detto una cavolata non posso questa settimana perché possiamo dal 17 di giugno c'è insomma un embargo sapete come funzionano queste cose scusa scusa non sono quello che ho chiesto per il cinquantino ti risponde un altro messaggio quando è finito di leggere iniziata la gara ah sì no volevo dirti di cercare di meritarti la fiducia di tua mamma se non vuole comprarti il motonino insomma magari provaci però poi niente cazzate considera che io per comprarmi la moto anche la mia famiglia non è molto che gradisca queste cose qua ho dovuto aspettare un'età un po' più matura con i soldi che mi sono messo da parte da solo eccetera quindi cioè non avercela con i tuoi alla fine loro hanno paura per te però se gli dimostri magari di essere un bravo ragazzo malavitoso ma nel senso buono può darsi anche che si fidino no? ah perché qualcuno gioca già in Vietnam su Youtube no no ma non è non è un problema in Vietnam su Youtube si può si può giocare adesso è che io non ho non ho fatto in tempo adesso posso anche io ma c'è una nuova versione della preview che può essere mostrata dal 17 e io semplicemente non ho fatto in tempo a registrarlo io ma comunque mi fa cagare quella pista se devo dirvelo aspettiamo l'amministratore qua signore ecco si che sta ancora facendo i conti qua ancora lui? si guarda si solo lui c'ha delle pause lunghissime cioè dura più la pausa che la gara cos'è? un pochino l'abbiamo blindata solo che si è appesantita magari non si ribalta come prima ma vediamo grazie no milazze me lo consigli il T150 sì assolutamente è un buonissimo entry level on a budget grazie mille a Cam Newton anche Cam Newton è grande sportiveggianza attenzione tutti sportiveggianti da oggi potete aggiungere al curriculum anche malavitosi non solo sportiveggianti siete proprio potete far tutto adesso nella vita attenzione l'U94k l'U94k come vuoi che lo legga grazie mille grazie Yukon grazie per le due sab regalate grazie mille attenzione è pronto l'amministratore ma non si parte uguale no non è più pronto l'amministratore infatti si è sprontato non è che sta guardando il divano c'è qualche problema ah no c'è uno con una macchina forse è lui il problema vabbè però mi sa che non gliela fa mettere in automatico quindi eh no infatti in effetti l'ha cambiata certo sta amministratore è proprio fiscale no ma tanto comunque non parte la gara perché se metti una certa classe non limitazioni auto non esatto attenzione è pronto l'amministratore evento più unico che raro ma ho sentito solo un bip quindi probabilmente non ha funzionato bene grazie Lucchino per il bip intanto non il bip ecco 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 ultimi tre secondi oh olè oddio il divano no ragazzi adesso devo stare un attimo attento però perché qua sennò ci si fa del male vediamo com'è la killer B è un po' più potenziata cioè potenziata guarda bastardi mi tamponano appesantita funziona in curva che è solo ultimo vediamo però oddio 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 che è quello che vola attenzione donna quante macchine sotto sotto dove vado è niente è il cantiere posso rientrare così di finezza ti ho visto mi sono rientrato ero andato via nel cantiere attenzione attenzione che paura quando ti ha intorno questo fa mettiti le cinture cesarino oddio 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 attenzione ce ne siamo un po' andate all'aceto signori ma no mi ha fatto volare sapevo che sarebbe successo ma vabbè ragazzi dobbiamo dare spettacolo qua ci dobbiamo far riconoscere in tutti i server dobbiamo testarla un po' blindata perché prima era troppo leggera ragazzi veramente qua con la killer b bastava una sfioratina ed eravamo morti guarda che baricentro che ha questo che c'è una macchina in groppa dai obiettivo non fare ultimo col divano è stra difficile tipo funziona ted fierro esterno ok senti senti come slim bella per il divano occhio abbiamo fatto come attenzione qua che c'è di nuovo la zona uscita cantiere ma guarda di motore andiamo via però col divano frenatona frenatona ok le batterie del telecomando nascoste sotto i cuscini che danno quel boost in più 17 oh botte qua davanti cerchiamo di evitarli e li evitiamo numero pure sta pista è caruccia comunque si molto non la sto molto apprezzando col divano però è molto racing dai ha del potenziale esatto con una buona macchina deve essere una bella piccata ma tu sei là in zona decimo tipo quinto ah no ok allora c'è un altro con una macchina piccolina viola che è pericolosa la mia è nera con le fiamme aia scusa caro scusa caro non sei tu donna che imbarcata che mi ha preso questo con la macchina viola forte dunque non sei attenzione mi spinge mi spinge che fa spinge no ma la mia è troppo delicata se mi spingono signori non si fa questo è cattivo guarda quest'altro sto fio è una mignotta io cado dal divano se mi spingono cazzo vuoi mettere no ma pia quel fio è una mignotta attenzione pressing di Ted Fierro breakfast signori breakfast sei un bastardo adesso rimani lì bloccato nel mio divano brutta idea sto divano raga però attenzione perché forse riusciamo con un po' di maestria a non arrivare ultimi eh la killer B signori è molto delicata la killer B avete visto una toccatina e se ne va però si disintegra no 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 in scia dai divanino addosso si adesso abbiamo l'aerodinamica attiva attenzione ha montato una gomma extra se qualcuno è morto qui cauto in fiamme eccolo si ancora non siamo ultimi scusate ragazzi vedo cose in chat ma meglio non distrarsi col divano no sono al 93% di integrità però non regge cioè nel senso adesso l'abbiamo bella resa più resistente resistente ma non meno delicata agli urti nel senso che è in basso a sinistra però la vita del veicolo ok dai ho un buon 54 ancora peccato che son volato già via quattro volte dal divano però almeno dovrei riuscire a finire la gara e non essere ultimo attenzione e poi tutti in piedi sul divano tutti in piedi sul divano guarda quattro no che ho su due ruote che ho fatto noi abbiamo il speronamento ma non è vero no ho preso l'albero ma si può stava andando tutto liscio attenzione perché c'è jules qua dietro no 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 noi prendiamo i cordoni signori che qua se andiamo su due ruote è tutto un altro passo il baricentro di sto qua mi fa morire e andiamo attenzione ancora penultimo dai così ultimo giro questi sono già arrivati no no e dai tira dritto sto coso appena si solleva un po fa come il clk gtr attenzione non sono ancora ultimo comunque buono danni critici attenzione abbiamo 19 di vita no altre cazzate se no ci ritiriamo di problematica però comunque attenzione gli altri sono auto eliminati probabilmente sono i disesti molto bene molto bene ci vuole un po' più di cavalli un po' più di cavalli orca miseria mi si è imbizzarrito il divano mannaggia niente ci sta ci sta no sono ultimo no non finire lo passo no non sono ultimo aspetta sono diciottesimo fanculo l'ultimo è il diciannovesimo ma non c'è non è arrivato no è talmente morto che ha vinto l'amministratore di condominio eh vabbè facile così attenzione si mette il boost di tanto anche di sei secondi però il tempo sul giro l'ha fatto il secondo eh holds yes uno sei e tre attenzione attenzione io col divano non c'è più il tempo dai volevo vederlo frati consiglio il T150 adesso più che altro perché il G29 lo stanno vendendo 300 euro che mi sembra un po' una presa per il culo eh conviene aspettare le offerte quando mi lo danno 150 160 più che altro i prezzi normali perché adesso con sto casino grazie Max Devil grazie per i sette mesi grazie Brando per il bit Bellanu allora riporterò a CC con Ale sicuramente sì che Ale deve un po' penso controllare come va col volante non l'ho ancora provato sti giorni ancora non ho avuto modo di provarlo beh giustamente sei in live da tre giorni eh ancora non sì no no non ho provato nessun gioco col volante sti giorni che sono stato in live quindi non so ancora se è vivo o se dobbiamo fare un funerale al T300 speriamo bene dai sì sto divano andava bene una volta ma basta ragazzi è un po' inguidabile allora se vuoi posso chiedere a mio cugino che lavora alla Fanatec di farti uno sconticino ah sì chiedi allora dili direttamente che ce lo manda tuo cugino dai dili direttamente cos'è sto sconticino eh ma se no chiama un po' Samuele Samuele dove sei puoi fare una donazione di 800 euro e gli compriamo il volante no se no se no facciamo le ore meglio di no meglio di no ah è vero è vero puoi farla a me quando finiscono le live di maratona va bene ma dobbiamo aspettare sempre due ore qua del ah sì questi adesso stanno ancora scegliendo usa torretta rossa jonathan tu sei matto mi vuoi proprio vedere torretta rossa sarebbe questo eccesso gabinetto devo usare che genere di musica ascolto ma prevalentemente rock prog metal però un po' tutto anche quando è finita la maratona si può fare le donazioni sono sempre aperte sono sempre aperte grazie a Luca Duca per il primo mese grazie mille Luca benvenuto benvenuto tra gli sportivi gioanti prendiamo questa non se ne è accorto nessuno che hai preso fammi controllare poche troche cos'è e ti farà macchinare i bimbi presente nel monoposto no non ce li ho non ce l'ho io non sono più rock non sono più metal che mi è successo chi ti ha detto che non lo sono l'amministratore fa le sue cose io sono per il cesso ah è vero esatto questa era la peg perego bravo grazie mille a mister non frena per la donation ecco te un minuto in più comunque non ho avuto problemi con il nome o un abbraccio ah si è vero è vero no perché non c'è praticamente mister non frena ah ok che si è abbonato poi anche a te si ha detto comunque non ho avuto problemi con il nome perché quando si abbonò per la prima volta a me il frena non l'ho letto frena hai detto frena sai perché lo so perché lo stavo per leggere anch'io poi ho guardato un attimo perché è abbastanza lungo quel frena quindi ho detto ah per la prima volta grazie a mister non frena lui è stato ha controllato meglio ha controllato però ho avuto il dubbio grazie GL buonanotte è rimasto tra i grandi errori come non conosco Richard Benson avvo chi ti ha detto che non lo conosco è un pollo madonna però la lentezza di questo amministratore mandiamogli Richard Benson per favore grazie Luca grazie a Luca Nespoli per i aspetta che conto 1400 beats attenzione attenzione questo è grazie mille Luca 10 minuti almeno oddio non so quanto stava prima ormai non lo vedo più ormai non controllo più quanto sai che non finirà mai siamo a 6 ore e 50 che mancano mi sono preso un Trustmaster TMX Pro sì sarebbe il T150 versione per Xbox quindi sì no non devo mettere io cioè posso mettere io pronto ma se non metto pronto comunque quando l'amministratore dà il via entrano tutti cioè se tu puoi mettere il pronto o non pronto ma non cambia niente è solo che l'amministratore è il tipo sempre l'ultimo ed è lentissimo è lui che deve mettere pronto se tu non lo lasci e sei in stanza comunque poi ti parte la gara grazie Tolsmir anche a te per l'abbonamento grazie mille benvenuto quale amministrazione abusiva cambiate server eh tra un po' mi sa di sì esatto magari ne becchiamo uno di classe B che riusciamo a prendere i nostri cavalli di battaglia esatto esatto infatti ci dicono cambiate server per un loop ma sicuramente andiamo vogliamo cambiare dici così vai vai subito tanto questo che cazzo questo ha rotto le balle in effetti dai andiamo damos l'ho votato l'ho votato ma perché pensavo fosse il circuito non la modalità oddio guarda qua ma questo qua piccolino a fianco a me subito così attenzione dimieti trebbia attenzione mette il passotto rissa ma io sto fuori dalla mia di trebbia attenzione rischio tantissimo qua mi inseguono ci sono di prendere un po' questo si fa male da solo ah ma c'è anche il piano superiore lì hai visto? si solo che con la mia di trebbia vado a tre chilometri orari boom attenzione Marco Mura bello guarda che casino che abbiamo combinato mamma mia ragazzi e noi siamo bene no però poi ci facciamo male da soli io scenderei attenzione d'arco c'è anche quello regge è bellissimo attenzione mi hai dato questo qua guarda nel fianco madonna eh ma io ho un'aerodinamica un po' strana con la mia di trebbia tra l'altro per fortuna sei l'unico con quello che vuole so come starti lontano no a parte che è lentissimo ma poi sono già distrutto è il prossimo boom morto oddio quindi è un po' un fake non è così buona no è abbastanza morbida siamo volati dalla mia di trebbia signori se ne va io sono a 86 calcola oddio ma c'è vanzini che sei vanz è il suo nickname vero grande c'è un vanz sì ma non credo sia lui beh penso di no però si chiama esattamente ah te sei morto ah bastardo rigenerazione sì adesso ci rigeneriamo attenzione perché è ancora lunga sedicesimo oddio c'è Ale tutto nuovo via madonna madonna attenzione assistita ma cos'è piano piano ora guarda quel camper quel camper sta malissimo pediniamolo no allora però ha un buon raggio di sterzata perché c'ha quelle ruotine dietro che sì però io non riesco ad inseguire nessuno con sta cazzo di cosa ma a 50 all'ora attenzione frontalone no 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 ma hanno preso in un brutto momento ripristina ripristina vai vai ragazzi attenzione sono mister bus bello Ale che mi salva il culo mamma mia quello lì mi stava venendo a finire è uno è uno degli sportiveggianti è uno degli sportiveggianti mister bus che si vendica ma mi avanza ma mi avanza mister bus mister bus se no anzi è bocca no 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 ho nove di vita ho nove di vita ma come cazzo va sta mia ingrebbia attenzione palmino con l'autobus ok e tu te la rischi attenzione attenzione non rischio è sempre mister bus ci stiamo ammazzando tra di noi praticamente sono morto però tipo eri generale ah no ok ok buono allora pure io non l'avevo visto in realtà no infatti bene bene allora dai così ci si può divertire oh su due ruote numero c'è anche kadash che è un fan ora vi prendo a sportellate ma che botta che è lì attenzione noi andiamo aspetta che no sono morto di nuovo sei sotto sopra ma io sto per terra c'è il mio cadavere per terra ah ok grazie Ioria la guida è all'aperto no scusa scusa stavo a leggere la chat non ti ho neanche messo grazie per i 14 mesi attenzione mi tamponano sta per esplosare niente siamo esplosi di nuovo sta mi editerebbe un po' farlocca però dai ti può fare la botta a qualcuno bello no mi ha evitato aspetta 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 Tony Hawks pro skater camper no numero a fine ah 12 secondi ok si 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 no è edizione io sono diciottesimo eh sta merda bello io non so perché sono dodicesimo o sono morto tre volte ma dipende forse dai punti perché anche se dai le botte bisogna darle finisce così attenzione grazie Paradox grazie per i 14 mesi hai fatto 1010 punti guarda che sono tante non so come in realtà io ho fatto 4 e 20 però più che altro esatto io ho dato poche testate ma io le ho prese più che altro non ho la più pal idea di come sia accaduto doppio anello doppio anello forse si incrocia sai doppio anello eh l'anello sì l'anello classico tra virgolette mi sembra che è questo no però perché dice doppio c'è un incrocio sarebbe figo se ci fosse seleziona auto allora qua un po' più di finezza dobbiamo andare però il doppio anello ci vuole anche agilità quindi quasi una quelle di classe A pare troppo signori troppo no una killer BS questa da crono scalata certo se prendiamo una botta con questo signori un incrocio siamo morti ma ne vale la pena cosa prendi tu? la killer BS che livello è? B e cosa cambia dalla L? io c'ho la L killer aspetta fai idea perché io ce n'ho anche un'altra di killer B che però si chiama no killer B prendo sto boomer allora è un vecchio skyline che è sempre il livello B bello il boomer ce l'ho pure io mi piace tanto è una delle mie preferite yes la boomer mi sa di vecchia skyline arrogante no il pullman in sta pista no esatto signori questo è la pista il lotto alle otto è la pista di Estobal primo morto sulla ruota doppio anello c'è l'incrocio al centro ci dicono sì sì questo ci incrociamo è tipo Indianapolis ma si incrocia poi nella fase esatto grazie Jam grazie per i 100 bits io ho fatto i 400 per usarlo su PS4 direi il T300 c'è Carlo Vanzini che mi sta seguendo bene ciao Carlo Foxia ruota ruota ma no c'è questo col camion bellissimo che è quello oddio che c'ha il teschione dietro è quello della modalità torneo aggressiva maia puttana troia madonna pensavo fosse diritto e niente velocità cosa ho evitato oh ma c'è un autobus contro mano è possibile è possibile grazie Erwan grazie per i 300 bits niente siamo ultimi signori attenzione ancora l'autobus ah ok era contro mano adesso si era addirizzato attenzione Vanz tamponata no eh il monster track è difficile da ma tu che c'hai ruota ruota io sono ottavo che guarda questo con la limousine c'è anche lui la bara però attenzione di finezza si si l'ho visto l'ho visto c'è un tempo però si un numero oddio ma questo è pazzo continua ad andare contro mano quel pullman attenzione mister palmino ho visto l'hanno devastato no togliete me che la mia è delicata la puttana no abbiamo solo ribaltato un pullman tranquilli tutto a posto funziona questo col tir no per piacere ma sono sempre ottavo cosa sta succedendo madonna guarda qua in mezzo questa staccata passa in delle uh dentro qua attenzione sesto ne passa due questa macchina è fenomenale Ale c'hai ragione madonna questo con la che è una specie di corvette bellissima oddio l'autobus e vai a cagare però vabbè tutti io nell'incrocio tutti io aspettate che io sto fermo nell'incrocio e qui è pericoloso occhio ancora ottavo attenzione qua che c'è muro a sto scuola a sto scuola bus attenzione settimo ha ucciso lui arriva ganza sei un bastardo dai riparti no l'autobus no l'autobus oddio bastardo sti qua con i scuola bus che si divertono a fare no guarda che poi puntano a me che c'ho sta macchinina piccolina occhio che all'interno di una curva c'è un liang si bello sto camion cazzo con le fiamme è quello della modalità che ti dicevo cioè lui contro tutti contro mano dovrebbe essere però non si può fare molti ce l'avrà vinto lì beh sì è possibile penso di sì dobbiamo andare a sbloccare pure noi attenzione l'autobus noi siamo agili però ci mettiamo di finezza grazie Zugabri per i 18 mesi grazie mille bastardo vanzini nu e ale troppa sportiveggianza oddio non so se sia veramente vanzini qui mi hanno detto mi sta seguendo ma non credo che sia in gioco oddio questo impazzito dai mortacci attenzione l'autobus ci prova arcatraia no comunque succede di tutto ma noi siamo sempre potabili hai rotto il cazzo Xenon è iniziato ad andare contro mano anche il camion sì dicono che è lui hai rotto le palle dicono che è lui sì davvero è vanzini ma perché in live attenzione mandiamo la squad al vanz aspetta aspetta oddio qua ma dove si fa attenzione non si insinua io ma dove sei passato tra te e l'autobus ma qua ci sono i blocchi del traffico però non vale è più di uno il camion tra l'altro ne vedo due due attenzione esterna scusa e come faccio un po' di posizioni noi siamo entrati nello stesso server di vanzini che giocava breakfast e così come è potuto succedere la cosa grave se fosse entrato lui attenzione no no di nuovo e occhio qui no oddio rischi niente questo era doppiato e finisce così quanto manca vai 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 dicono sì che è Vanzini che sta streamando ah in live Vanzini ma qual è il canale di Vanzini scusa si chiama Vanz una volta si chiamava Superfux adesso si chiama Vanz attenzione abbiamo fatto 8 e 9 è in live Carlo con Vreckfest aspetta sì 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 è lui è lui è lui te l'ho detto che il nome è tutto maiuscolo Vanz mi sembrava lui però io non lo trovo in realtà aspetta si chiama Carlo Vanzini ah proprio così ok tra l'altro categoria F1 e dintorni molto dintorni molto dintorni però con il volante con il volante attenzione con molta sportiveggianza è vero è vero grande grande ma come vuole venire su Discord Ranatroz come facciamo a parte io non so se ce l'ho amico anche su Discord ah sì Vanz mi ha scritto sei su Discord è vero grande mi ha scritto davvero grande aspetta dove cazzo è Carlo eccolo Carlo ah questo è ovale ovale attenzione è uscito un ovale da panico si è lato ma perché ne si sta impallando c'è la freccina che non so per quale motivo la Boomer RS è molto racing anche questa grazie Speedbird Speedbird proviamo questa di classe A signori ah è con Kinkero che parla siamo ritrovati così in un server random di quante possibilità c'erano signori quante possibilità c'erano attenzione si parte si abbiamo preso una classe A una classe A abbiamo preso una classe A a pare di sì testiamola è rimasto in questo server avanzino penso di sì penso di sì ah sì è quello fermo sul blocco di partenza non so se è perché mi sta scrivendo su disco attenzione mossa tattica di la verità l'hai fatto apposta per la partenza mi ha detto che è con Kinkero altrimenti lo potevamo adesso gli chiedo se si fa uno e niente io lo faccio così lo vale donna sono storto attenzione qui si sportellano alla grande qui si fanno male c'è qualcuno che va in contromano c'è sempre questo il camion è sempre lui ah l'ho vista la corvette tipo con la bandiera americana sì molto bella attenzione il camion grazie mille Alessio grazie ad Alessio per la sub per il primo mese benvenuto benvenuto oh rischio sono quinto zitti sono anche all'autobus lì davanti Ale nu leggete anche questa chat e la stiamo leggendo però porn sta partecipando quindi togliete sto cazzo di autobus sei qua col pulmon blu sì ce lo siamo trasportati per metà pista attenzione andava più veloce così ma quindi sei uno di sti due terzo quarto terzo sì ah ok ok io sono qui ero terzo attenzione adesso c'è Mauro sportellata su Mauro rischio vai 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 attenzione a noi all'interno lo vediamo è stato ingoiato dalla massa niente la macchina è una trepuda Dio comunque è bellissima io faccio muro muro di finezza però che motore ha la tua sembra abbastanza sportiveggiante non curva un cazzo però ti vedo occhio occhio quel carrellino lì ti ha visto male ma pure l'autobus attenzione lo derapiamo all'esterno ci prova ti dà la caccia aspetta passiamo indenni anche noi se cazzo dove prima attenzione è un altro morto dai 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 cos'è tutta sta pulizia via via bellissimo Ale da vedere tutto di traverso attenzione è l'unico modo per fare le curve con sta macchina è buttarla di traverso attenzione mi sta in basso qui davanti rischio bello guarda no 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 porca troia attenzione lo raggiunge dentro qua ci si prova attenzione rischio porca troia ci hanno lanciato i cadaveri delle auto addosso blocco no comunque anche l'ovale è bellissimo anche l'ovale è bellissimo dalle sue soddisfazioni oddio attenzione che va a zigzagare ho trovato l'angoli davanti dietro l'angolino nascosto ma che auto è a filo si non l'ho mai vista no è quella che mi hai detto che era figa quella di prima la boomer no io c'ho la s ah no no aspetta adesso ho preso la boomer hai ragione no 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 io intendevo no non l'ho usata neanche prima beh però va da dio questa boomer boomer ma ha cambiato forma durante la gara perché effettivamente sembrano a 127 da dietro si mi hanno tamponato in maniera abbastanza aggressiva ecco perché sembrava sembrava diversa sto pensando se ho qualche server aspetta vedo se vanzini è in qualche server così nel caso ti mando l'invito al volo ah perché ha cambiato server o è ancora no 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 intendo su discord ah ok perché non vorrei essere così aggressivo da chiamarlo ad un certo punto vorrei prima capire se è disponibile grazie mister crab grazie per i 200 bits si si è trasformata nell'arco sta scrivendo vai manda link allora circuito principale invertito il top stadium ovale allora ovale è stato molto figo però sembra che stia vincendo bull bull bank circuit ha vinto grazie otteris grazie per l'ottavo mese grazie per l'area sabella sempre sportive giatte grazie mille grazie mille ok vanzini ha detto che lo possiamo aggiungere in chiamata se vuoi ale si perché no aspetta qua qua cambiamo auto qua ci va un po' più da 3 6 partner si adesso lo aspetta aspetta no aspetta una cosa alla volta invitiamolo prima così parliamo a voce come rrs ce la fa eccolo qua vanz vanz è vero la cassa da morto aspetta fermi tutti me l'ero scordata oddio questa però aspetta no la pista è troppo piccola mi sa troppo piccola ciao ragazzi ciao carlo buonasera buonasera come va tutto a posto tutto bene buonasera buonasera chi c'è chi c'è io e quel tale ale quel tale ale ciao ale ciao carlo ciao tale ale ma io stavo giocando poi a un certo punto mi hanno scritto che che stavi giocando anche tu eh no ma infatti allora io a un certo punto ti ho visto nel nel server e dico oh questo c'ha il nick uguale a vanz tutto maiuscolo dico però non può essere lui e poi nella chat mi fanno no no ma è lui va bene grande vanz super fucsia e non era facile beccarsi così a caso di un server di di breakfast dove siete adesso su qualche server sempre qua io sono qui comunque Carlo te l'ho te l'ho mandata la la richiesta per la squadra se vuoi ok adesso oh 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 tanto sono ultimo adesso la prendo così ecco mi sono schiantato ma guarda qua si vola c'è un autobus blu contro mano poi Carlo mi aveva insospettito che non avevi la macchina tutta fucsia quindi non può essere lui non può essere lui ma no signori sta boomer aspetta ma che sta gara è devastante alza un po' ho mollato così secco Kinkero perché sto cercando di capire come funzionava per entrare da voi Roby Roby segue live allora tac vuole fare fai clic per accettare l'invito e adotto anche questa mi sai che si si incrocia anche sta pista occhio 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 lungo muro bene molto bene quando Carlo ha detto ciao ragazzi non ho vinto fosse nulla Roby adesso sono finito in mezzo al bosco è perché stavo attivando la squadra è attivo così io devo ancora capire un po' di cose no mi dice ancora invito mandato questa bella notifica e ti apri la finestrina allora un fermo da un quarto d'ora ed è ventesimo su 24 diciottesimo in verità sono ma solo perché c'è meglio stare fermi e nascondere gli altri si eliminano piano piano è meglio camperare quest'autobus non vedo male per accettare l'invito ok prima streaming quindi ok se hai cliccato la notifica vedi che dovresti avere uno di quei bottoni viola a destra che ti dice avvia stream squadra è un muro ok adesso siamo in squadra 3 dateci la conferma in chat ragazzi magari fateci zap va bene quindi posso ripartire con la puoi ripartire vai 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 devastato cioè mi stavo ripristinando va bene prossimo no con questi tir con questi tir cioè c'è un tir contro mano ecco un altro ma voi giocate da tanto o no ma va io ci avrò fatto tipo un paio di video sul mio canale poi adesso abbiamo accolto l'occasione per ridere un po' io anche a random da bellissimo adesso dobbiamo fare un gioco vai parliamo senza dire chi parla vediamo se indovinano chi sta parlando ok come non vale come non vale parla su Ale esatto quel tale Ale che è secondo peraltro alle spalle di grande pilota quel tale Ale che tra l'altro noi cosa cosa è automatico o manuale no è automatico io personalmente allora anch'io perché prima non sono fuori giro perché sti preoccupi di prendere legnate chi è questo oh Kadash si è girato vai vai si è girato Kadash ma io sono undicesimo vai a prenderlo Ale era dietro Kadash che si è girato però non vedo comparire Ale no io sto ancora ancora secondo vedo Nu con quel tale Ale alle spalle che si schianta eh sì perché mi ha fatto fuori quindi sto seguendo che bella la macchina di Kadash fantastica ma perché la mia che c'ha il muso che tende a sinistra vediamo se mi fa cambiare segui auto che numero di auto hai quel camion che arriva il pulmo Kadash è preso dal pulmo è una grande occasione no però ha già vinto Kadash è già arrivato è già arrivato ormai l'ha vinta comunque è fantastico questo gioco io ho sempre sognato di fare tre no ma perché poi è esatto è un disastro però abbina una buona fisica eh comunque sì sì bellissimo e tra l'altro non so chi sul mio canale si ricorda ma noi incontrammo Kadash una volta fa Kadash dice eh dimmi no dicevo che chi mi segue sul canale forse si ricorderà che noi una volta ci siamo anche incontrati due anni fa se non sbaglio nello studio di registrazione di Milano per il doppiaggio di Formula 1 ah quando che avevamo fatto avevano fatto un'attività il video insieme sì di lancio del gioco sì mi sembra che era Formula 1 2018 2019 hai doppiato Formula 1 no no io no loro cioè erano avevamo fatto una specie di videopresentazione sì bello comunque Kadash ha scritto vincere davanti a quel tale Ale a fare il sogno della sua vita qualcosa del genere ah quindi è tra i nostri Kadash sì sì io sono finito in top 10 facendo solo un settore di tutta la gara no David 95 ho dovuto pagare il gioco non sono riuscito a farmi lo installare grazie attenzione attenzione qua allora scegliamo anello vale esterno macchina allora questa boomer mi ha dato grandi soddisfazioni io quasi la lascia io vado di cattiveria provo provo a andare col drag slayer mi è sempre ispirato a provarlo ma è gara o ci dobbiamo ah gara banger ok ok gara 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 no perché avevo visto magari eliminazione pericolosa però è ovale Ale quindi c'è sempre qualcuno che va contro 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 lo becchiamo allora difficoltà fammi mettere cambio automatico si mi sa che non è ovale pieno è quello diviso a metà che devi fare l'inversione a u ok molto bene c'è uno che ha preso il divano ah è Sam è Sam ragazzi cioè non non Sam quello che dona Sam quello che il mio amico con cui giochiamo a rainbow adesso l'ho letta la chat scusami Kadash me lo riscrivi dopo Giuseppe se non sbaglio un salutone Giuseppe via si parte un salutone mi si è attraversato davanti hai il pullman ah davanti davanti scusami Kadash non avevo letto prima qua c'è una brutta frenata da fare madonna e niente è finita ma che succede ah ma perché bisogna tornare indietro si per tornare ragazzi attenzione ci c'è su macello noi siamo qui ormai ancora piantati no eh quale retromarcia ah è proprio ferro di cavallo così si esatto aggressivo aggressivo ignorante quel ferro di cavallo attenzione si pianta si l'ho ribaltato io grande voleva fermarmi ma perché non dovete entrarvi qua eh ma quello attenzione vans botta botta attenzione ma io non so più a che parte devo andare a sto punto attenzione è diventata una ruota scoperta la mia va bene così giriamo tornantino di qua ma volendo possiamo fare il contrario cioè buttarci dentro e uscire sulle vare ma penso di sì l'importante è uscire l'importante è uscire attenzione ci proviamo perché secondo me se stiamo interni esatto vedi guarda l'autobus come si è messo strategico quasi meglio è sto pullman mamma mia scappa fa proprio sliding doors pericoloso bello qua interno ma bisogna capire da che parte andare io mi so in effetti un po' a caso io contro attenzione il divano ho questo pullman di traverso sul curvone fantastico forse non conviene troppo cercare di capire da che parte andare bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo c'è anche chi è dentro la pista c'è un divano senza autista che succede? eh no l'ho lanciato io per sbaglio ancora non ha ripreso il divano ma io sono secondo in lotta per la prima che dite? io sono morto male mi sento per esplodere mister bassa il primo adesso proviamo a fregarlo no non è vero perché non ho frenato in tempo interno mezzo drift e c'è esce in testa occhio qua però pericoloso all'uscita puttana attenzione no 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 è che si è bloccato sono primo ragazzi no mannaggia ma perché rischio madonna che trambata il mio pilota la testa ormai è un foglio preso 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 io c'ho 23 di vita ragazzi io 14 dai tutto sommato è l'ultimo giro guarda mister bassa come chiude e ti rifrego ti incrocio guardano qua perdendo un po' di pezzi vado a fuoco purissimo non so se stare interno esterno io non ho capito com'è il giro mamma mia è a caso la gincana in fondo poi puoi fare quello che vuoi che è questo che si rimbalza così siamo arrivati secondo ragazzi buonissimo no madonna abbiamo evitato con un stile madonna come li stiamo evitando tutto di culo naturalmente anche se aveva il drag slayer vedi grande macchina grazie ragazzi grande macchina forza ferrari se li abbiamo drippati sbattendo tra l'altro questo camion via evitiamolo attenzione vans comunque in top 10 tutti a punti a punti in questo momento tutti che girano contro mano non ci sono penalità attenzione sono alle spalle del maggiolino e lo spingo lo spingo eccolo e taglia il traguardo vansini eh non è ancora ah non è ancora devi fare ancora mezzo giro mi sa che non ci arrivi eh oh che bocca grande bello 5 secondi a Fettel sì era una lottina di coca la mia macchina è vero ho mollato aspetta mando un messaggio a Roberto che l'ho mollato lì su disco povero è lì che parla da solo attenzione c'è il doppio anello che vince stravince il doppio anello oh madman no mamma mia è qua la fine ragazzi prendete macchine corazzate di brutto beviamo anche un goccio d'acqua ragazzi prima della gara allora cambio intanto mettiamolo automatico via mettiamo un po' di abs con le trazioni mettiamo tutto va sennò qua no io la tengo allora proviamo a sgusciare ah questa forza 1.9 ecco perché ma si può prendere qualunque mezzo sì 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 tutti mezzi senza regole madonna il Roger l'RGT di Driver fa 2.99 3.41 speedbird mamma mia io prendo la Rocket mi piace tutta americana così mi piace eh sì lanza quanta ignoranza tutti insieme è un bel trio eh col vanzeale in effetti ci sono dei fucsia stasera fucsia tutti ruota ruota Andrea Verzini stiamo giocando a Wreckfest ho scaricato anche quello dei camion ho provato a fare una consegna e sono rimasto incastrato veramente Eurotrack è finito allora si chiama American Track American Track ok abbiamo anche quello volendo grazie Luca grazie grazie di cuore Luigi grazie attenzione si parte in curva anche con il salto si questo è strettissimo subito risuona ecco subito l'autobus blu in mezzo alla pista si si mette in lana è finita la gara non passa più nessuno il camion col testo dietro è cattivissimo si 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 è bellissimo è cattivissimo anche chi lo guida quindi stai attento che scende l'ho appena tapponato all'interno mamma mia mamma mia mamma mia oh oh che cazzo dito ma incredibile non riesco più a schiodarmi dal podio aia ragazzi si fanno questi ingorghi qua però eh sono ancora vietati gli assembramenti raga che è sta roba è tutto di traverso sabi è tutto di traverso e pensa che tutto ciò succede davvero si si intanto Ale primo per il momento ho preso quella che era e calabia del tir in pieno dai liberatemi maledetti attenzione di culo vediamo se riesco a passare l'incrocio contro il muro non so cosa sembra la mia macchina adesso un ferro da schieno la donna che sta succedendo ma sempre mi ricordo da che parte dell'incrocio devo andare no se capiti al centro e sbatti è finita per il senso dell'orientamento io non ho mica capito se sto andando nel senso giusto va bene andiamo al centro tra il pullman sapevo arrivano il portiere attenzione serve uno spazio non si sta capendo una sega no devastato no adesso guardo la gara allora quel tale ale eccolo qua bellissimo questa macchina si ma è bello che ancora primo è bella aggressiva dai perché lui si nasconde va a camperare l'ho scelta anche abbastanza colorata diamone l'occhio bravo che ha evitato qua li sposta tutti infatti vediamo vediamo no questa no non ce l'ha facciata soprattutto che si è incastrato si ha bloccato il cadavere si perché poi quando le auto esplodono diventano non si spostano si si rimangono lì attenzione all'interno del pullman rischio si si oh di traverso bello si è stato ma solo di traverso madonna no se passavi no no però è finita è finita era il traguardo era appena prima come fai a restare così indenne no è stata una botta di culo è stata una botta secondo me ci hai messo i telaietti di rinforzo un pochino si driver passa lo so che non ho fatto l'incrocio giusto ma che devo fare è andata sempre di sfiga ragazzi c'è della gara in questa anarchia adesso ci sta cercando un sacco di gente su Wreck a 10 ci vengono proprio ho visto che stanno arrivando a demolire apposta e vengono con le mazze chiudate la classifica vede quel taleale vincere ancora incredibile davanti a Chris Pozzi terzo driver quarto se ho quinto dove è lui? no io mi sono ritirato dopo dopo di te grazie mille non ce l'ho fatta però sono arrivato davanti a porna che è già qualcosa attenzione 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 ah c'era anche mister palmino con lo scuola si era insinuato con lo scuola mago back occhio circuito corto giro interno e doppio e rinince il doppio anello che è lo stesso di adesso tra l'altro mi sa che è la stessa identica pista roberto kinkero invita ma go back su discord mentre chiacchierete ah cosa siamo qua ah è vero è vero forse la macchina che ti ha bloccato era la mia sì sì è perché io sono morto ero rosso quindi è probabile siamo rimasti bloccati direttamente lì vabbè ci sta tanto alla fine siamo sguisciati uguale un po' di manovre e via questa è stupenda donna Luca grazie mille la killer B killer B bellissima però è molto delicata occhio eh no no allora cambio aspetta io vado col gremlin che è comunque delicato ma va bene grazie mille no 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 prendiamo no non è vero è lenta scusate proviamo questa piccolina star beast che fa tanto onda crx proviamola io riprendo la stessa vediamo puntiamo sullo stesso cavallo vediamo se la fortuna ci ha il semaforo la fortuna ci assiste mi sa che non ce l'ho l'autobus io o comunque dai dopo vediamo adesso non me la fa più cambiare proviamo il piccolo civic qua quel che è macchina rossa mod ho preso il muro fra del lì è vero sembra anche una toyota mr2 ecco ecco c'hai ragione hai più ragione di me Luca Pero bravo dai robin invita ma go back metti la telecamera da fuori guarda che aggressiva c'è la curvone oppela ancora con il passaggio in mezzo si è la proprio la stessa di prima no 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 ok questa staccata passa in bene oh all'interno grande manovrabilità questa macchina se riusciamo a evitare i porn almeno mannaggia palmino che mi fa il liang almeno azione ci sono degli autobus che si ribaltano ragazzi ma io ho preso ho preso il camion in zona finestrina non si è smosso di un centimetro è un blocco di marmo guarda come mi ha ridotto ma qui non si passa qui non si può passare lui passa lui passa lui passa occhio qua è niente è finito sì vabbè guarda qua oh un buco è niente si è chiuso il buco madonna che sta succede sta macchina è talmente piatta però che se si ribalta non la rigiri più quest'autobus portato di tra è niente si è chiuso tutto è finito è tutto chiuso spingi spingi su autobus driver non rompere attenzione Sam no stavo passando l'aria vabbè ma dai ma qua l'ha fatto apposta a chiudere no devastare no un pochissimo qua tocca prendere un autobus armato pure a noi per fare lo stesso gioco e niente è qua dove si passa adesso proviamo a prendere il cesso pubblico alla prossima magari ci va bene hanno paura della buccia dammi un buco guarda io sono dietro di Tinevans facciamo ma dove arriva il porco quello è fucs guarda non ce l'avevo ma di chi è quello aia tra un po' lo dico io non arriva il porco se continuo così arriva da me ma quelli lì che hanno maggiolini e cos'è che hanno delle mod loro no non credo forse hanno giocato abbastanza da sbloccare si ah qua si sono messi proprio così tutto chiuso molto bene si si tutto chiuso sto facendo apposta nonostante tutto sono nei quindici ancora pullman che si intraversa aia quattordicesimo vediamo se passa no il camion mi piglia in pieno questo si ma lo fanno apposta vediamo c'è una macchina che è una macchina che è devastata in effetti l'idea era questa si soffè tantissimo un volo su un bar mi ha aspettato dietro l'angolo non so dove ma no tutto chiuso io vedevo solo il tuo nome ma la macchina no neanche io guarda in mezzo al casino lezione palmino non so dove ero no ma adesso dove si passa scusa ho trovato uno spiraglio qua se questo col camion mi lascia andare ecco il banzo vediamo il banzo attenzione prova da sinistra all'esterno c'è il maiale l'affronta leggero sovrasterzo correggio la traiettoria Vanzini pronto ad affrontare un altro incrocio libero qua senza paura cattivo dentro cosa sta succedendo countdown undicesimo la porta a casa prendi un camion e tira dritto mi tolgo per la stagione si carico adesso vediamo cosa c'è dai rozzeria oh Dagdaman mi dice certo che chiedere all'utente porn che guida il maiale di dargli un buco poteva andare meglio prendi il camion il divano vai andiamo sul circuito vediamo se vince il circuito ecco allora no qui mi sa che o riproviamo questa ragazzi oppure quella di prima anche era una bomba cos'è questa? gigino prova a rivendere l'auto quasi nuova mai pista e andiamo di boomer boomer sembra delicata un po' delicata un 1 e 9 io vado con questo perché era forte ma a me piace attenzione il Vans col Killer B Killer B Speed Bird per Pozzi Speed Demon per Gaudio aspetta mi sa che non me l'ho cambiata però attenzione non giochi mai a gran problemi sulla griglia già ce l'ho ma ce l'ho sulla play allora Mago Back sono solo Mago Back adesso provo a farti andare Mago Back ti mando io il link no raga ma questo è un circuito serve una macchina veloce se piglio il cesso ci fanno fuori e ci lasciano indietro è un po' delicato esatto tirano l'acqua è finita lì sì Carlo con il volante quindi dobbiamo dire che è anche più difficile è vero giusto stai giocando con il volante con il pad però è in linea a giocare serio sì il problema sono gli altri cioè siamo noi che creiamo il panico lo abbassiamo al nostro livello ecco già ho un tir girato no io ho già ho già lo scuola busto avanti guarda guarda già si sta parcheggiando cosa c'è la prinzia attenzione dove si va dove si va il ponticello e la madonna dove si faceva ma boh dove ti girano gli altri evidentemente sì 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 dove va il fiume questa è pista da go kart mi sa le prime cubi si parte subito male oh delirio quello dentro di me si chiama buggy avevo letto bobby dico no bobby è mutato ma perché sta facendo il tempo no ma perché sono tutti che girano le strade questo è un circuito raga anche qua tutti contromano guarda ma dove siamo ma no ma non ci credo no mamma mia con questi pullman però c'è sempre il problema pullman contromano madonna mia anche qua persiste niente ci siamo usciti pullman peraltro passa nel bosco tira dritto incrocio lo incrocio così va lungo e si mette in mezzo guarda guarda ci infiliamo qua ci infiliamo qua passiamo il vanzo passiamo il vanzo dentro passiamo trappolamenti e c'è anche Sam eh all'interno oddio anche a driver attenzione anche a porn con il tir attenzione dietro pericolosissimo c'è dell'astio tra Sam e il vanzo lì dietro uh madonna mia quello è morto malissimo eh non ti freno a mano dietro mi è arrivato dietro un'ombra gigante no ma allora questi con gli autobus si stanno a mettere d'accordo perché si sono messi sul conticello tutti e tre si 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 sono accordati no dai è qua eh vabbè strike incredibile dove vanno a questa situazione c'è un pertugio ah lo chiude vai 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 mi ha preso datemi la spinta dai maledetti aspetta e se ne va riesce a squisciare attenzione il conticello sembra libero il conticello sembra sembra ma non lo è bisogna studiare un modo per passare sul non sul ponte ma vale devi andare dopo il ponte poco non troppo sullo sterrato ma proprio molto larga perché molto dopo devi prendere l'uscita dopo devi andare a Ancona questo col camion mi entra è levitato lunghi 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 attenzione guarda il Vans come squisce finita la pista con la Prince io vado di qua provo così attenzione madonna quel tir sta facendo morti in ogni dove in ogni dove voglio anche io quel camion lì ma quello corre solo per diminuire gli altri sì l'ho visto andare dritto per dritto quindi vati là apposta quello sia l'obiettivo attenzione lunghi lunghi qua attenzione c'è Crespo dietro oh bravo che è aperto passo è vero è vero alle campi ci ho pensato anch'io prima quelli con gli autobus sembriamo io e Amos quando abbiamo fatto i safety bus dalle carri è vero mi mettevate anche voi di traverso mamma mia mamma mia così mando il link a Magopac Magopac mando l'azione passa da fuori ma quelli davanti non si schiantano mai ha vinto Kadosh sta vincendo tutto Kadosh viaggia si ma più al mondo con quattro gare di anticipo attenzione qualcuno forse si è ritirato o esploso perché sono arrivato poi secondo quattro posizioni a gratis Magopac ti do il link per chiacchierare con Kinkero dove sei oh 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 ok attenzione giusto prova Magopac dopo arrivo anch'io dai ce l'abbiamo fatta a finire decimo nonostante gli autobus io ho 22 ritirato con la Killer B ho un ping che è come Pozzi che è un ping pong qui gara normale diciamo dice Kadosh vince con classe B la potenza è nulla senza controllo attenzione Kadosh bravo attenzione quel taleale è secondo sì però ero quarto praticamente alla fine non so se due sono usciti nel mentre o si sono ritirati commissione gara qualche penalità insomma siamo comprata sotto banco ho ucciso di nuovo il Vans povero adesso vediamo che tipo di gara c'è ragazzi andiamo anche noi di prepotenza sta venendo fuori una demolizione io vado sul percorso alternativo vediamo se non è deathmatch aia demolizione avrebbe vinto a mani basse lo stesso ma donato a prove di scream ma dai allora cosa è questa è un demolition derby quindi allora ignoranza pura ragazzi consigliatemi qualcosa di violento perché non vedo tanto qua questo qua prima la prova toale fa cagare quindi niente la resiste esatto sì fa un po cagare pensavo forse aggressiva e invece sapete cosa mi sembrava molto solido ieri a me ragazzi questo qui proviamo a prenderlo il war digger grazie sembrava un bel blocco di cemento no il monster track no raga è un'arma a doppio taglio perché ci impegniamo sugli altri e voliamo via serve qualcosa che dia proprio le botte però non troppo lento come il bus perché se no non riesci ti scansano sembra resistere però 6 e 2 di forza non l'ho scelta però no ho sbagliato no boomer rs non ho fatto in tempo a selezionarla questa c'ha 1 e 1 di resistenza il primo soffio di vento e mi esplode la macchina prova a usare la tattica del Vans nascondito penso di sì è vero il camper non era male ma questo ragazzi vedrete che ci darà più soddisfazione signore io qua corro arrivederci ma questo è un piacere dai poverino abbiamo già disintegrato ho già preso di mira vado di attenzione mister palmino con l'autobus botta dalla distanza prova la gran botta madonna anche mister bassotto ho già lui che niente se succede un macello stiamo resistendo più del previsto per il momento il numero il numero di circo dove devi andare no no non ci sono i giri se solo il conto la rovescia no qua damos eh ragazzi le stiamo prendendo eh però damos è da qua solo che non riusciamo a prendere un po' di velocità per andare via liberi e mirare qualcuno da lontano attenzione cecchino kadash è attrezzato forte eh no c'è sotto sopra questa è andata aspetta mi hanno devastato c'è rigenerazione vai vai riprogramo madonna sai cosa se nella rigenerazione si potesse cambiare veicolo tipo no madonna mi è esploso tutto che magari mi hanno buttato fuori pista attenzione vedo un vans l'harvester sta morendo da lontano vedo un vans stealth tra l'altro attenzione eh sì perché oh questa gomma uh anche seo andiamo a cercare qualcuno da abbattere seo ci pensa lui da solo attenzione noi intanto prendiamo lo scania dei pompieri di nuovo c'è un drone aia 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 il nostro pilota è diventato una sottiletta tra l'altro sono già diciottesco mamma mia buddy palmino bella sta botta palmino frontale devastato questo qua vuole ammazzarci aia se pacca e dash c'è un camion della malattia per quello vince tutte attenzione proviamo il rischio contro l'autobus attenzione ecco la 591 come va aia per poco un po' meno vita aspetta prendiamo un po' di velocità signori e va beh dai così appena rientrato attenzione pazze botta sta impennando tantissimo quella che ti trebbia questa ragione Murano no seo comunque quello è quasi morto ma perché io sempre sfido non riesco mai a beccare uno con poca vita attenzione no ma dai il vero è che io tipo sono morto due volte due volte mi sono suicidato da solo contro l'autobus è esploso io continuo ad attaccare quelli già esplosi quindi mi faccio male da solo no dove vado oddio però ci sono anche Ale quei camion lì quelli sono devastanti si quelli sottosti il fatto è che io non ce l'ho non l'ho sbloccato nel mischione qualcuno prenderemo sui denti quello più massiccio ovviamente non riesco più a uscirne e niente speravo meglio comunque questo gippone dai una kill nel finale ecco da solo nel muro sono in retromarcia no occhio a dar attenzione mister palmino di nuovo mi stai devastando male mister palmino mi ha devastato due volte vai che ce la facciamo a ripartire ho preso un 200 del finale attenzione entriamo in top 10 vai spingiamo un po' mister palmino attenzione attenzione ragazzi si si è ripresi con un devastazione finale io ho finito sotto l'autobus decimo decimo due devastati due 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 io non credo di esserci vans p18 zero punti vans sei andato solo via a scappare stavo cercando di fare il link a magoback alle 7.50 a modo magoback io stavo mi sa che ci dovevo mettere io di tasca mia ai punti alla fine perché stavo proprio oltre occhio occhio che se no esce di nuovo il deathmatch votato a destra si si cioè a destra nel senso in questo caso garabanger garabanger bello hai visto il carattrezzi che botta bobo riva cioè piantato lì adesso ci andiamo di sportiveggianza qua la boomer ci può stare non andava bene nel deathmatch ma forse qua ce la possiamo lasciare la bara votate il cesso vai il cesso me lo stanno dicendo da sei anni e mezzo proviamolo a me stanno che è una cagata ecco appunto stanno votando la station wagon con la bara vada per la station wagon con la bara tra l'altro è lentissimo è un c124 questo coso però magari non ti notano perché si nasconde un po' il problema è che è più alto che largo quindi ah è vero è quello dentro la cabina esatto è praticamente una cabina inglese con un gabinetto dentro è difficile curvare diciamo un po' problematico con lo scania di eurotrack avrei vinto a mani basse ovviamente cesso cesso che poi io ancora non mi spiego perché questo cesso si chiami honeypot vabbè 81 80 grazie riesco a farti entrare ciao l'aretta patatuna ehi grazie gabriele grande eccoci ma la parola il cesso attenzione squiscia però dai in partenza si è vista questa volta agilità eh ma perché ho messo un po' di via cal sulle gomme guarda 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 dove mi ha tirato questo con la bara eh sono io è lui no è tutto 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 avete visto ragazzi cosa mi è successo mi prende una sportellata c'era l'omino è volato via ancora con la carta igienica poverino in mano no ho perso la bara attenzione la troverete in mezzo alla strada in curva 4 la bara in curva 4 è mia mettetela da parte no ma non tamponatemi che volo via maledetti guarda lì non ha neanche il volante in mano sta proprio cagando il mio personaggio attenzione però vai più forte di me quindi oggi attenzione lo vedo lì davanti guarda come è agile nel destra a sinistra nei cambi di direzione è fotonico eh scoreggia di qua scoreggia di là oh guarda guarda come si insinua ma anche sullo sterrato vedo che sì 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 ma perché le ruote in proporzione sono grosse ecco due c'è i cerchi della matiz manovra un muro qui ah avrei detto attenzione no no non ci credo ragazzi sta facendo la gara della vita col bidet credibile noi dobbiamo puntare siamo un po' safe all'eliminazione degli altri perché noi rimontiamo è forte il successo ragazzi incredibile guardalo qua si butta dentro è dentro è dentro su un palmino il cesso è scusciato ruota no no la catenina vai riprenditi cazzo grazie Marco che mi hai messo dritto attenzione no rischiano la sportellata perde il galleggiante dello scarico ma continua ad andare ottavo freno a mano ma c'è anche la cartigianica lì davanti non l'ho vista freno a mano immagino direrà lo sciacquone esatto la catenina sesto sono sesto no oddio cosa ho recuperato no attenzione madonna io sto sottopassaggio l'ho piato tutte le volte che sto passato mi sto concentrando perché sono sesto vabbè sulla tazza è normale bisogna concentrarsi spingi 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 adesso attenzione ha vinto Gaudio ragazzi è il momento di spingere dobbiamo farla tutta questo è il traguardo siamo arrivati sesti siamo arrivati sesti con la manovra vai vai così però l'auto col maialino anche è spettacolare io non ce l'ho state attenti quando dite che è un cesso di macchina perché avete visto che a volte non è per forza un'offesa è la macchina è la macchina di il cultiputz messo bene anche Ale dai un paio di posizioni indietro grande rimonta eravamo tipo si poi si sono fortunatamente eliminati loro perché sennò io attenzione Vans è ritirato col Gremlin ma io sono un chiodo cioè non va avanti la mia macchina mi sa che ho delle eh hai preso la C di livello riprende qualcosa di più pompatino eh ma non non posso accedere devo fare un po' di carriera ma non ce l'hai tipo a noleggio in fondo a destra quelle viola boh? no attenzione qua cosa prendiamo? doppio anello una vale l'altra perché sono tre gare eh ma c'è il doppio anello attenzione attenzione al doppio anello ai 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 ci sta il doppio anello violenza il gas a martello è un altro in questo caso vuoi rifare la verniciatura vai al colorificio e il sound cambia di volta in volta a seconda di quello che hai mangiato il giorno prima allora selezioniamo con cosa andiamo qua a doppio anello ragazzi comunque Carlo mi sa che se vai sulla zona destra ci sta anche qualche classe A diciamo a noleggio nel senso che te la fa usare non il Mercedes no dove devo andare? io ho un Supervan B a me ad esempio c'è la Starbist Starbist L che è di classe A però qua è meglio prendere l'autobus che è il cesso su forza non si può se non sarebbe fantastico ragazzi non so cosa prendere per sta gara io riprovo di Supervan quella che va voglio prendere una macchina buona adesso dai una veloce tipo questa proviamola alterniamo alterniamo cazzata anche perché sull'otto con questo mi sa che sarebbe stata complicata concesso qua no sarebbe stata molto complicata non mi avrebbero fatto cagare in pace stessa auto del dance abbiamo stessa stessa team il spanico cioè spanico si si poi la riporto ragazzi poi la riportiamo quando finiamo la maratoncina poi dividiamo tutti i vari gameplay nell'arco dei secoli 75 ore che è questo qua con il gokart che è stato già stritolato lo vedo sul tuo copo c'era il cadavere sul tuo copo che macella fa sta macchina mamma mia attenzione attenzione The Stranger con la corvette molto bella è molto a muro non sto capendo nulla è altissimo il volume di sto sta macchina attenzione si butta dentro stiamo a girare giusto mi butta dentro ho troppo attenzione palmino con la limousine qua ci si incrocia attenzione si si di traverso quello con il cartino non si è fatto benissimo attenzione deghito botta no col cart di sbagliare strada tipo madonna quello là con la e niente se non guardavo ragazzo attenzione rischio attenzione ci facciamo aiutare eh ma te ti ridritto ogni curva con il tuo gippone verde qua si c'è anche un altro col gippone che vedo che fa diciamo che va a spazzolare nel mucchio oh che bella questa ah no ma pensavo avesse una pinna di squalo invece è solamente il cofano storto attenzione danni critici ragazzi si mette male no toccatina oh questo contro mamma mia paura ci eliminano quando passi lì nell'incrocio è sempre è sempre un brivido dai mamma mia occhio palmino qui attenzione il brivido sotto di traverso no palmino dai dai ah c'è la tua ma sì vabbè c'ho tre di di vita ciaone attenzione no credibile a me è doppiato tra l'altro c'è scattato il primo e ci insinuiamo in finezza occhio all'incrocio occhio all'incrocio occhio all'incrocio vince Gaudia occhio all'incrocio esplode davanti è successo un macello molto bene e nello stesso incrocio ci siamo ritirati purtroppo addosso ad Ale se avevo il cesso ero primo della buzza che emanava lo scarico comunque la miglior prestazione l'abbiamo fatta col cesso e quindi lo rivaluterei ma da lì i primi tutti in un fazzoletto tutti in un fazzoletto un secondo un mezzo sono arrivati in sei secondi l'otto ragazzi dà sempre tante emozioni non sai mai se arriverai attenzione Kadas dice che è davvero una pinna di squalo ma gliel'hanno piegata avevo visto bene ah anche quello premio del torneo bene ma noi non ci regala niente il gioco un bocca al lupo per l'esame no ma forse li vince nei tornei offline a noi non ci regala niente siamo poveri con queste auto si brutti le mettiamo insieme con lo scotch e andiamo grazie Paco Granata grazie mille andiamo circuito corto vediamo com'è va a vincere circuito corto qua serve una macchinina sprint sprint agile una libellula ci vuole qua cos'è ciò di Mando Nava allora ho arrivato di Boomer signore qua o la Killer B che va su due ruote che insomma c'ha pure il suo perché questa qui avrebbe senso qua che ha pochissima resistenza quella specie di MR2 lì eh sì ragazzi altrimenti Killer B era forte ma la Killer B S è molto delicata occhio se fai uno star nudo ti ribalti no dai provo questa che almeno è di livello A è comunque molto delicata ma almeno è veloce io posso scegliere le macchine va bene non è un problema ma non non l'ho visto qua il cesso ragazzi c'era sarebbe stata una buona idea ma non me lo fa più scegliere potremmo cogliere tutti di sorpresa è vero il cesso è super agile però c'è ragione non si intraversa nemmeno troppo è quella doppia questo gioco vedrei bene Grushon è mal donato ma in realtà anche questa raga è fortissima bisogna provare la fuga all'esterno ecco guarda già c'è uno speronatino attenzione non so dove è la strada ma che è questo è un delirio attenzione poi ci sarà sicuramente qualche autobus che verrà contromano e ci prenderà in pieno quindi subito problemi qua alla prima curva oh scappa oddio doppio slalom triplo desperato con la corvette però non curva non gira non gira no casino 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 attenzione scia esterno Gaudio attenzione ne passiamo due no ma qual è il tasto del freno a mano la da me la ok ho dei problemi tecnico-tattici nelle curve strette attenzione Gaudio no non si va di qua lo so carlo mi hanno girato ti ho visto arrivare no ti ho girato io mi sa funziona adesso ho imparato usano anche il cinema siamo ancora in zona avanzano ripassiamo ripassato ho più ho desperato mi ha offerto la portiera non è stata colpa oddio ho desperato si ma desperato siccome c'è la macchina che non fa le curve si vendica attenzione di finezza no ma che sei collato al muro aspetta che faccio manovra piano niente c'è un'attrazione per il muro attenzione attenzione vabbè almeno ci ha staccato dal muro eh dai sti muri attenzione no attenzione che arriva un vanzo cattivo eccolo sempre eh passa eh passa dammi criccio il nostro pilota credo che ha qualche problema comunque a meno di metà gara molto bene attenzione qua il nostro pilota è accartocciato nella portiera va bene guarda questa macchina non va bene ragazzi che auto sobria è calda qualsiasi cosa tocchi vola vola sono un po' troppo delicati per gli scontri i porn aggressivissimo lì davanti con un'auto estremamente sobria attenzione oh ma infilato così palmino oh chi era contro che sto facendo non credo questa macchina non la prenderò mai più troppo delicata troppo leggera l'auto sono pezzi ovunque applaudono chi è che si è inchiodato ci voleva davvero il cesso ragazzi eh li avrei dovuto ascoltare attenzione è bellissimo vedere il pilota che Gaudio vince ancora doppietta vince ancora lui attenzione perché c'è un Tosaerbe che comunque è arrivato guarda sto mio nettamente davanti a me devastato no io avrei dovuto prendere il cesso ragazzi sta cosa è maestro credo credo meno che non è doppiato il Tosaerbe ma credo di no perché sta andando a cannone il crespo con il Tosaerbe attenzione nei giochi dove c'è da distruggere sei sempre bravo in realtà non tanto ma perché sta macchina no è un'illusione non va bene non va bene per niente troppo si il nostro pilota non stava bene non stava per niente bene e chiude onorevole undicesimo posto nel Vanz finisce la gara undicesimo il campione Kadash si è ritirato oggi Gianluca Negri quinto quel tale Ale sesto attenzione riguadagna punti sbuca dalle ritrovie fortunatamente anche qui perché si eliminano gli altri perché cerchiamo di non farci vedere noi la nostra strategia è non farsi notare adesso si va di cesso ragazzi assolutamente vai col garabanga doppio anello doppio anello con cesso è una finezza si si ho visto crespo l'ho visto ti ho visto quella cosa l'avevo fatto un po' tempo fa l'anno scorso aspetta aspetta prendiamo il cesso ragazzi c124 vabbè dai lasciamo perdere il livello perché poi la potenza non è tutto come dice il nostro amico Kadash vado un attimo sull'altro discord che vado a salutare un po' i ragazzi vai vai l'anello signori è attenzione mezzanotte e 22 è una brutta bestia l'anello tanto qui abbiamo ancora 8 ore 15 io c'ho il pittore che bussa alle 8 però bene bene se faccio tutto di seguito li apro io arrivano alle 8 comunque qua tocca fare qualche gara offline ragazzi per sbloccare tutte quelle auto perché c'è il tir il camion che è fighissimo io non c'ho neanche il cesso che c'è non c'è il maiale ma io quello non lo so come ce l'ho però quello io non è che abbia giocato chissà che eh monestamente non lo so o era tipo un pacchetto che ho siccome io il gioco l'ho comprato di recente non all'inizio probabile che io abbia trovato qualche dlc insieme a poco io non lo so perché io dlc credo non ce n'ho neanche uno in realtà attenzione vediamo il cesso nel doppio anello sterrato no bellissimo l'hot dog sulla macchina voglio anch'io a z c'è un hot dog è bellissimo attenzione dove si gira non lo so non so dove sono attenzione anche il maialino però è di finezza dai ma comunque incredibilmente successo è indistruttibile è una porcellana di quelle di quelle quelle che resistono eccolo lì guarda quasi attenzione palmino palmino lo tiene all'interno guarda lì come lo spinge attenzione guardalo come dribbla attenzione cartello attenzione mi hanno distrutto no è super delicato mi sono già ritirato ho scoperto il punto debole prendi una botta seria è finita ma non ho capito se la botta seria te l'ho data io o mi sei passato sopra no 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 non eri tu ero una macchina rossa ti dico allora io ti sono passato sopra però la botta me l'ha data quello che mi va da dietro ah ok perchè ti ho visto sul passare proprio a filo sul tentino no 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 mi ha preso da dietro per questo mi sono visto pazzesco no il maiale attenzione che salto abbiamo fatto vediamo mettiamo un po' dove cazzo sto aspetta che devo riguadagnare la strada eccolo anche questo con l'hot dog attenzione ti rischio burn out però ti sei affezionato eccolo ebbè niente ormai è andato eccolo mi sa che si sono affezionati gli altri a me attenzione sei a rischio di tiro qua uno starnuto esplode tutto ma noi cercheremo di fare vedi niente allora vado apposta dai attenzione abbiamo un 3 piano aspetta manovra piano niente manovra manovra facendo finta di niente fischiettando per non farsi notare dall'esterno è stato bellissimo siamo stati devastati male vediamo chi c'è devo adottare la mossa speciale odore strano proveniente dallo scarico ma guarda l'indere che c'ha l'orsacchiotto nel copa no autosportiva ma con l'orsacchiotto di due metri si comunque il vanz sta andando si aspetta che non lo vedo ma sta correndo guardalo lo distraiamo noi allora dov'è aspetta che non lo trovo che numero è oddio aspetta 5 5 vediamo seguiamo attenzione anche lui è a rischio però guarda guarda come è pulito col volante fa bene sul cordolo guarda come ahia deve evitare molto sul cordolo di finezza se intanto muore qualcuno a fianco di giustezza lì c'è la tua macchina c'è il mio cadavere molto bene guarda come segue gaudio di scia niente non c'è più il nome forse è finita la gara è finita la gara attenzione avanzo recupera anche se c'è gente lì davanti che si sta distruggendo faccio il salto in bagno mamma mia si ragazzi penso facciamo un altro pochino poi ci salutiamo se no domani non ripartiamo no no la gara è finita è finita quando togli il nome significa che dovrebbe essere finita la gara se non era finita prima è finita adesso questo bot ragazzi il vans è andato un attimo sull'altro server di discord salutare qualcuno ha detto comunque terzo ha fatto terzo attenzione si corre a mer e allora siamo noi che gli portiamo eh mi sa che lo distraiamo troppo con le nostre stronzate non può cazzeggiare è arrivato terzo il vans bravissimo circuito principale invertito circuito principale cosa voti cosa voti guarda forse quello centrale quello centrale vai proviamoci circuito principale sembra niente ok niente la chat del gioco non è molto moderata oddio non lo so non sto leggendo no vabbè è tutto sommato oddio no forse cosa che non cosa che non va diciamo mi era sfuggito tanto non è roba nostra ecco mi dissocio nel dubbio nel dubbio ecco allora signori killer b s due ruote e non pensarci due ruote tutto di cuore dobbiamo andare no cosa ho preso il maiale ok ah non mi ha passo ancora prendiamo il maiale ragazzi o il maggiolone dai facciamo una gara col nostro beh io non c'ho né il maiale né il maggiolone attenzione dai il nostro maggiolone coi teschi storico unico veicolo che abbiamo mai posseduto davvero in questo gioco è il double car ragazzi da secondo me troppo nell'occhio perché si vede anche da lontano quindi il camion ti punta subito niente non posso cambiare più dai maggiolone andrà bene ragazzi ero indeciso col maiale ma sì dai è tutto come ci pensi esatto il tre ruote pure no non si può fare il tre ruote tra l'altro il veicolo del vans si chiama rammer quindi è proprio però è andato bene è andato bene eh sì spoiler nu si addormenta la guida no ma non me l'ha cambiata la macchina attenzione ma porca troia eh ma avevo cliccato si dà attenzione S qualche numero S codice fiscale mi ha tamponato ragazzi che macchina mi ha tamponato mischione attenzione però ne vediamo fuori bene attenzione si insinua no 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 ti derampata attenzione Gaudio un grossassino mannaggia stava andando bene dai rimettiti in pista e niente ultimi guardiamoci il cordolo il turma 1 no di cordolata secca attenzione a Gianluca attenzione a Gianluca di finezza guardiamo un po' di freno a mano guarda il Vanzi qui davanti attenzione con l'autofucsia è fucsissima super fucsia attenzione di derampata mister Passotto occhio attenzione la prendiamo larga no oh strike ci sono le ruote troppo grandi del Vanzi qui ci incastriamo oddio ma che aggressivi sono i cordoli di statista madonna mia ok si rimette siamo più in tunesi niente sto maggiolone in realtà anche il dragster di Gianluca è molto figo scusami scusami attenzione di finezza all'interno è fighissimo sto distraendo perché nel mentre sto vedendo la macchina pure quella noi non ce l'abbiamo fa schifo sto maggiolone ragazzi non è lo stesso che ti aveva dato grandi soddisfazioni sì però o un altro ah è lo stesso no è lui Gianluca e Mr. Palmino si tamponano ne approfittiamo ma ancora cosa fa attenzione c'è rotola rotola troppo questa è troppo pesante attenzione ma che cazzo è l'ambulanza con quale ripartenza tra l'altro c'è un'accelerazione devastante lunghi lunghi finita la pista dove c'è se lo devo passare si laime fermo cioè non può essere così più indietro di me signori ho sbagliato strada ma cioè in realtà upela ho sbagliato macchina perché questa è troppo pesante questa non si ferma questa va bene per l'ovale guarda cosa fa è al culo guarda qua però questa però derapa che è una finezza derapa che è una finezza attenzione cordolo pericoloso oh e qua c'è porno lo passiamo ventesimo attenzione è killer portella di finezza attenzione si smacello si smacello boom e te via d'accordolo via d'accordolo non sono incastrati il fotofinish non ce la facciamo perdiamo uno scheletro siamo più leggeri è la mossa disperata è però col carretto l'ultimo giro inutile l'abbiamo fatto meglio ma comunque il livello massimo di A è 301 attenzione quindi si può livellare non che faccia molta differenza devo sbloccarmi roba perché non ho i pezzi proprio sbloccati manco se volessi comprarli io devo eh no è vero quelle con la carriera te li devi sbloccare quelli si è andata così via la zavor no alle 300 ah 318 è il massimo ah pensavo ah è vero c'è quello con 318 kadash kadash 318 ah beh ma kadash è il fenomeno cioè lui è forte proprio grazie al pittore di nu per l'adunzione come? si perché alla fine puoi scegliere il nick quando fai la donazione il pittore di nu sti cazzi quello si li piglia i soldi non li dona mi tocca tenerti qui ancora un po' perché domani arrivo verso le nove mi sa anche prima secondo me Wreckfest su console mi sembra che dovrebbe essere arrivato o sbaglio mi sembra di si mi pare aspetta via via sto maggiolone allora che car hanno scelto? Fire Motor Center circuito principale ok quindi possiamo prendere la Boomer se ce la seleziona stavolta io non voglio cose troppo pericolose però ragazzi perché sennò allora il cesso è bello ma dobbiamo evitare i contatti che non è facile vedi che c'è roba il Vans mi sa che non torna più ha visto che va molto meglio ha visto che va meglio senza di noi quanto dura la live ma poco ancora tra poco vado via ragazzi perché sono veramente domani è un disastro attenzione comunque l'accelerazione arriva poi ci mettiamo pure qualcosa di resistenza forse perché sennò ci esplode ha bloccato tutto ah dite di provare il maiale sto giro che è un po' più fortino dai ci sta ci sta ci sta scelta finale attenzione mettiamo anche se è arrivato a 10 però poi magari mettendo l'altro perde un po' può dire no dove vado è finito ok attenzione 320 Boomer RS Raising Time l'ho portato a 320 solo che la resistenza è quella che è quindi probabilmente drag star style dritti per dritti attenzione vediamo sto maiale che sta a fa 320 in realtà gli ultimi potevano anche non metterli però poi se mettiamo qualcosa che fa resistenza a cose che non abbiamo fatto attenzione il pole vediamo come parte senti che sound che fa il porco vediamo questa boomer oddio non è che parte così tanto cioè nel senso pensavo meglio con un 10 mi aspettavo meglio stabile il porco guardalo dobbiamo metterci un po' di cose aerodinamiche mi sa è uno spaccagliacci sto maiale non si smuove no 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 vabbè chi dovrà via mannaggia la puttana ma dai niente praticamente se uno è esploso occhio faccio manovra tranquilli scusi è devastato non ho finito neanche un giro no severo ma giusto miglior giro nessuno siamo un po' delicati attenzione andiamo a cercare noi dove sei? è quinto aspetta sto maiale va da dio adesso devo dire c'è anche vans 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 quinto sbaglio aspetta nu settimo guarda eh va eh sì vans mi sa che da quando è uscito dalla nostra chat non sono i numeri dalle posizioni però perché io sono quinto ah ok forse è un numero numeri random ah so ah ok attenzione qua c'è ale morto mi sa sì sì guarda il maiale come va dobbiamo stare attenti veramente siamo attenti con le parole quando commentiamo le gare con un maiale però bellissimo lo voglio anch'io no però questo grazie dai dai siamo ancora a settimi guarda come c'è anche il ciuffo alla Elvis il maiale tra l'altro con quale si è cattivissimo bellissimo lo voglio anch'io sì l'accelerazione 10 è servita parecchio a noi è servita a fine la gara neanche dentro il primo giro hai accelerato più velocemente verso il muro esatto è stato quello attenzione no eh l'ho perso l'ho perso ma comunque guardare le gare dall'esterno è ancora più figo spettacolarsi attenzione si è aperto il cofano dietro che non è propriamente un cofano apparentemente a vederlo è vero attenzione toccatina mi stanno sfasciando è finita c'è il culo in fiamme in questo caso guardi qua si vedono delle fiamme del fumo non è una bella cosa guarda lì chiappa in fiamme veramente mangiato pesante il maianino mi ha mangiato piccante guardalo si comunque è molto rock con la scritta pork di lato con la bellissimo attenzione che finezza non ho visto nulla ti giuro a occhi chiusi guarda che qua ci sono i sorpassi finali no ma è bellissimo sto maiali e lo voglio anch'io dobbiamo sbloccarlo signore ecco problema di aggressività attenzione c'è sempre quel cazzo di camion dai hai rotto il cazzo e finiamo tredicesimi mi sa ma non lo so in realtà se si comprano queste perché molte auto io non ce l'ho nel rivenditore di auto quindi non secondo me le sbu non so boh forse queste qua speciali no non sono nel tipo dove si comprano nel gioco Ale devi guardare i vari DLC magari non li hai tutti io l'ho comprato prima ah no io di DLC non ne ho neanche uno quindi può essere allora no di DLC no no ah è il DLC il maialino ok ok mi hanno confermato ah infatti si ah beh tocca comprare il DLC allora mi sa signori eh no perché a sto punto se ci mettiamo a ruota con Wreckfest con ste partitone è successo un macello io avrò preso tipo il bundle perché l'ho comprato di recente allora eh io l'ho presi beh saranno quattro anni e passa eh beh allora perché poi non si sapeva neanche se lo continuavano a sviluppare quando si chiamava next car game poi l'hanno cambiato è stata abbastanza un parto l'uscita di sto gioco attenzione ovale questo ovale me lo faccio però c'è un sonno con cosa lo facciamo sto ovale allora aspetta signori potenziamenti perché qua protezione mettiamo sta cazzo di macchina che ah perdiamo in curva solo solo tra virgolette più o meno tra quanto finiamo Pietro boh massimo l'una dai esagerando proprio onesto aspetta ovale interno ti saluta Carlo Vanzini ah va bene ok allora se non torna salutatemelo alla prossima salutatelo salutatelo grazie Piet Jordan grazie per la sabbre galata aspetta che stavo a fare questo già ce l'abbiamo queste laterali oh faccio l'ultima e vi saluto ah ok intanto anche noi più o meno siamo a sti livelli siete arrivati si si no io sto dormendo in piedi domani mattina mi arrivo al pittore alle 8 ecco perfetto Gaudio cioè il season passa 18 euro per tutti 8 i DLC poi ci do un'occhiata ragazzi no ci sono alcune auto troppo fighe grazie Pietrone scusate se vi sto leggendo poco ragazzi che sul serio ho gli occhi assommati si è concentrato no no si sta morendo è diverso se ne è venuto è arrivato a 338 di punti prestazioni ho fatto un po' di sorprese eh infatti si devo fare come Bobby mi devo buttare eh esatto è quello che abbiamo pensato anche io e Ale no occhio l'autobus è un ovale molto piccolo molto piccolo si è interno ma queste piste esistono davvero non credo però si sa mai gli americani si queste cose le fanno quindi questo è possibile attenzione anche al Vans incrociamo le traiettorie quando prima o poi beccheremo l'autobus guarda che c'è anche il furgone dell'A-Team eccolo l'autobus che arriva evitare dai che stiamo andando bene ragazzi speriamo di non farci ma io sono quarto ma ho sei persone davanti no poi tutti doppiati mi spinge sull'autobus quello con lo scheletro sulla macchina no e che te pareva che non tornava dobbiamo evitarlo no ragazzi ok terzo terzo potrebbe andare peggio buzzo dove l'autobus io sono crollato in quindicina posizione chi è che mi ha preso dietro un rischio bello il furgone così attenzione i pullman e passiamo interni quello radioattivo bellissimo sì no 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 non mi piace non mi piace via di no dai me l'hai spinto addosso ti odio ancora terzi però pure rischio oh bello sembra che stiamo facendo prova la spinta nel finale attenzione via autobus è demolito attenzione va a vincere e c'è il podio eh prima e terzo e Vans secondo ci stava 14 14 no ci stava bella la macchina di qua contro il pullman distrutto quando rifai video su F1 Pietro abbiamo l'embargo della preview fino al 17 giugno quindi poi uscirà il 2020 diciamo perché adesso si può fare di più di quello che avete visto ciao ragazzi grazie mille ciao grazie a te Carlo ciao Ale ciao ciao buonanotte ciao ciao facciamo il camion eh la prossima sì sì assolutamente ci sta ciao grande ciao 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 vanza più podi di Hulkenberg hai letto Kadesh no Ale non ci stavo a fare caso cosa dici Ale e te ci facciamo l'ultima va bene sì alla fine com'è andata con l'ape di domenica guarda qua vedi questo segno mi ha fatto un male ragazzi la stronza so Silver scusami hai un canale discord no in realtà no però stavo pensando di farlo quindi vi farò sapere un server immagino che tu voglia dire mi sto informando mi sto informando saluto che gara è? è una pista circuito piccolino tipo questo è sfalsata? oddio mi sa che era sterrato era sterrato io non ci ho fatto caso ormai è arrivato a quest'ora ragazzi abbiate pazienza non si nota più niente hai ragione abbiate pazienza anche se sto leggendo un po' meno sto commentando un po' meno ma insomma abbiamo un po' di orette di maratona sulle spalle sì te tra l'altro esatto e domani mattina si riparte mancano sette ore e cinquanta attenzione ma come? non lo so ma mancavano sette ore e cinquanta anche oggi da quante ore mancano sette ore e cinquanta orari di domani ragazzi non lo so magari domani mattina vediamo non lo so tempo di come sempre colazioncina passeggiata all'aretta vediamo spazzolatina che sta a fare la muta se no per casa qua è casino auguri silver dai facciamoci quest'ultima di aggressività yes che macchina non l'ho cambiato ok riproviamo con la boomer che è abbastanza leggera questa è piccolina come io ho preso una station wagon che sembra tipo un volvo vecchio mi ispira ma la station wagon oddio madonna il muro non l'ho visto proprio c'era tranqui che me lo copriva ma non siamo usciti bene qua no ah no ma si rompe il muro certo pure io ma tutto sommato attenzione riproviamo per l'altro ho un interessante bull bar davanti sta macchina quindi il parabuffali classico esatto per andare a caccia bella pepsi è tosta eh ragazzi questa molto buona guarda lì che volano sui muri no ma la station wagon è bella massiccia è massiccia ma è anche veloce attenzione qua davanti si stanno facendo malissimo proviamo ad uscirne fuori neanche fossimo stiamo stretti giorni di tuono proprio eh niente è morto il pilota a noi ma è fa parte della scocca c'è uno straveloce che mi ha recuperato un botto qualche attenzione ah è cadastro vabbè abbiamo perso sette posizioni occhio i muretti sono meno pericolosi quando stanno interi che quando si rompono si fa decolli è vero voli meglio prenderlo in pieno attenzione frontalone di quest'auto contromano ci insinuiamo anche noi un po' liscio liscio attenzione a sonics che ci sportella ma ci aiuta a fare la curva ci ha intraversato ci stiamo rimontando tutti giusto così è lui occhio ma dai sei un rompicoglioni levati no devastato ma perché tamponadina in amicizia che sta facendo attenzione lì davanti stiamo parlando male eccolo attenzione ci ho visto un po' cartocciato si giusto una punta qualche piccolo problema tecnico tattico con gli altri ma dai tu son male attenzione rov scusa scusate attenzione se ne va bello se ne va ma la rimonta va a vincere il primo quindi significa ha doppiato malissimo quell'uomo lì è morto malissimo altrettanto non fa del male lunghi 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 no no non si fa così attenzione se ne va attenzione aspetta che l'abbiamo modificata questa è da crono scalata c'è il pilota che sembra un alieno forse arriviamo eccolo ole ok va bene non sta in salute il nostro pilota però è arrivato almeno la scocca è arrivata volevo prendere need for speed the hit secondo te è bello ma guarda la storia è anche carina solo che è corta e poi secondo me ti rompi le palle perché non ha un grande sistema di longevità sul multiplayer però se costa poco e tu te lo vuoi giocare perché comunque un need for speed cioè io me lo giocherei a prescindere perché sono un appassionato della serie visto che sono vecchio e i need for speed sono vecchi però non è un grande gioco adesso va bene comunque abbiamo fatto grandi carone stasera grandi carone stasera abbiamo spaccato tutto a parte che abbiamo trovato il banzo così in generale su Wreckfest eccezionale mi ha fatto piacere che vi siate che è riuscito a inserirsi tra voi siamo sportellati ci siamo divertiti cos'è sta cosa air ride ah questa era quella che avevamo visto o no cosa la pista sei uscito tu si sono uscito ah ok no stavo vedendo la pista air ride ha fatto un'anteprima ed era ah era quella che abbiamo provato a mettere ieri sera nel nostro server sembra di si e si c'è una forma un po' particolare una forma fallica direi si facciamo anche noi no dai ragazzi veramente è abbastanza tardino è l'una che c'è una forma che c'è un po' particolare che c'è un po' particolare